Bene, ciao Alessandra, che bello averti qua con me, grazie mille per essere qua con me in questo momento e per darmi una mano a, insomma, come al solito io dico, cerco di metterci delle buone indicazioni ma poi queste buone indicazioni insomma vanno applicate e grazie per darmi la possibilità di dimostrare che quando ci si mette quel pochino di impegno si riesce a portare a casa qualcosa di interessante sulle cose che ci piacciono a noi, sulle cose dello stare meglio, del sentirci meglio, del sentirci più padroni diciamo, del nostro corpo. Allora, la prima cosa che ti chiedo come di consueto è questa come mi hai trovato, come hai incrociato, diciamo, i miei contenuti? Intanto ciao a te e grazie a te per l'opportunità di dire perché sono entusiasta di averti incontrato soprattutto il programma di fitness sicuro. Allora, in realtà sono incappata sul sito dell'altra riabilitazione già da diversi anni, in un periodo dove di sport fatto quotidianamente, con corsa piuttosto che ginnastica a corpo libero insomma tante cose, ma con un problema costante ai muscoli cervicali, alla colonna cervicale e quindi cercavo qualcosa che mi potesse aiutare. Appunto ho trovato il sito dell'altra riabilitazione e mi è piaciuto molto perché erano comunque esercizi fattibili da tutti e quindi niente, mi sono poi iscritta e mi è sempre arrivato il tuo materiale che ho sempre trovato comunque molto utile fino all'invito a conoscere il corso di fitness sicuro in un momento della vita, della mia vita particolare dove per motivi di salute importanti avevo dovuto lasciare perdere tutto l'aspetto dello sport e questo mi aveva portato anche ad un peggioramento proprio delle mie problematiche della colonna e cercavo proprio in quel periodo una risposta a poter ricominciare ma con qualcosa appunto di fattibile per me che tenesse conto di una serie di problematiche di una grande fatica e anche di una situazione in quel momento muscolare molto compromessa E questo è un problema effettivamente perché ci si trova e purtroppo sono cose comuni diciamo per motivi di salute magari a degli improvvisi repentini perdite dello stato di forma le generalizziamo così no perdite dello stato di forma e quando vado a ricominciare ok e adesso da dove rinizio perché poi in realtà rischia di essere una spirale negativa perché magari a causa di vari motivi cure eccetera eccetera uno va a perdere massa muscolare e meno ha massa muscolare così meno ha anche energie correggimi se sbaglio è vero magari la voglia ci sarebbe tantissimo però il corpo non risponde proprio effettivamente proprio così io mi sono ritrovata tantissimo in quello che tu hai raccontato quella sera presentando il corso ho detto ma sì proviamo nel senso non diamoci per vinte si può sempre ricominciare soprattutto pensando a non ricominciare come nello stesso modo in cui avevo smesso perché per tutta una serie di motivi non era più possibile però comunque ricominciare questo mi ha dato un nuovo stimolo mi sono appunto comprato il corso e ho iniziato e devo dire questo lo dico per chi ascolterà è veramente molto molto importante quello che tu dici l'hai detto nella serata di presentazione l'hai detto anche all'inizio del corso è la costanza la costanza è fondamentale cioè io l'ho proprio riscontrato in me ho iniziato questo corso dove il semplice esercizio quello che tu fai fare per riprobustire i muscoli posteriori cervicali di tenere l'asciugamano con le braccia mi tremano le braccia cioè facevo fatica a fare quell'esercizio però diciamo mi sono messa tutti i giorni quindi gli esercizi quelli specifici per la cervicale poi gli esercizi quelli del corso tutti i giorni tutti i giorni e devo dire che già dopo il primo mese ma io direi anche dopo la prima quindicina di giorni ho iniziato ad avere più forza a livello muscolare e meno dolore quindi per me è stata una cosa incredibilmente bella io ti chiedo questa cosa è logico che io ho cercato di mettere tutto quanto necessario di fare tutte le cose e di studiarmene infinite revisioni della cosa è logico che però è impossibile nonostante io ci abbia dedicato anche per esempio delle sezioni apposite sul come mantenere la costanza e così via le informazioni che servono anche perché noi smettiamo un percorso per motivi che vengono dal cervello non vengono dai muscoli ma mi interesserebbe sapere prescinde dalle cose tecniche che cos'è che ti ha tenuto che ti ha permesso di mantenere la costanza? è stata la scintilla perché non può essere venuta per quanto io possa averci provarci in tutti i modi la scintillina deve venire da a te cosa è stato? ma allora la costanza cioè probabilmente c'era già dentro di me il desiderio di fare un percorso ben fatto ma semplicemente perché io stavo proprio male e quindi secondo me quella è la motivazione principale cioè nel momento in cui stai veramente male non ti ritrovi più nel tuo corpo e poi c'è qualcuno che grazie ai suoi studi grazie ai suoi collaboratori comunque studia un percorso e tu facendolo hai dei risultati reali e beh questo è è lo stimolo migliore è stato vedere che riuscivi a riconquistare una nuova Alessandra diciamo sì sì cioè di vedere che guarda finalmente riesco di nuovo a fare questo determinato esercizio che non riuscivo assolutamente più a fare e quindi questo è di stimolo poi trovo che comunque il corso come voi l'avete studiato è fatto veramente bene nel senso che è molto completo e non è noioso io non amo ti devo dire la verità questo tipo di ginnastica cioè mi piace qualcosa quando tu parli sudare stancarsi c'è questo mi piace non sono sbagliate però ovviamente vanno inserite nel giusto contesto perché se uno fa solo quello è meglio che niente ovviamente però come fai a pensare di stimolare la mobilità e la forza è chiaro che con la musica così è più divertente rispetto alle cose magari un po' più ragionate e si cerca sempre tu sei stata abbastanza diciamo forte da vincere anche queste resistenze che a volte ci sono di ok non è proprio il mio non è proprio il mio è vero non è proprio il mio però in realtà è proprio il percorso giusto cioè perché mi sono resa conto che avendo dei problemi reali alla colonna nel momento in cui io andavo a dare una serie di stimolazioni probabilmente da persone impreparate perché comunque ok si può fare tutto però ci sono proprio degli errori da evitare il fatto di andare a lavorare in maniera pensata costruita ragionata da professionisti e vai a dare al corpo delle stimolazioni degli stimoli che da solo faresti fatica faresti fatica a dare tutto si può tutto si può fare sicuramente l'idea è proprio l'idea è proprio di appunto dare tutte quelle stimolazioni senza esagerare dare varie eccetera eccetera per poter diciamo costruire tutto quello che è necessario i pilastri i pilastri del benessere chiaramente bene scusami e mi permette ancora di dire una cosa perché secondo me è importante cioè non è di secondo cioè non non è di poco rilievo l'aspetto della nutrizione che tu hai inserito nel percorso e io avevo già avuto modo per altri motivi di affrontare tutto un percorso nutrizionale ragionare su tutta una serie di cose e inserire anche questo discorso all'interno di un percorso di ginnastica riabilitativo eccetera l'ho trovato importantissimo molto molto bello e direi quasi fondamentale perché va proprio di pari passo con lo star bene riflette un po' quello che è il mio percorso ovviamente io cerco di trasmettere cose che sono importanti e diciamo provate dal punto di vista scientifico chiaramente ma cose che anche io sento in qualche modo io sento di essere una persona che è affezionata alla sua salute è affezionata all'aspetto nutrizionale non è maniaca dell'aspetto nutrizionale perché lo so che c'è una vita lo so che c'è il compleanno del figlio lo so che ce l'ho anche io lo so che c'è la festività così però tutto sommato cioè la sfida la vera sfida non è quella di diventare talebani di qualche cosa perché ok quello lì ci riescono una minoranza di persone a diventare talebani di qualche cosa la vera sfida è portare avanti un percorso con la vita di tutti i giorni e riuscendo a fare la vita di tutti i giorni senza diciamo fare cose che appunto risultano poi difficili per la maggioranza della persona io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità ma soprattutto per aver comunicato una storia di forza cioè una storia di forza non diciamo nel senso di PCPT ma di una persona che comunque in un momento di forte difficoltà e di basse energie chiamiamolo un momento di basse energie sicuramente però è stata abbastanza lucida da pensare che comunque qualcosa doveva fare ok poi tu hai incrociato i miei contenuti si sono hanno matchato le cose si sono trovate particolarmente bene però poi ci è voluta anche la forza che insomma non è scontato sempre avere di andare avanti di applicare con tutti i normali alti e bassi che la vita ci riserva perché noi ovviamente in queste interviste sembra sempre che raccontiamo delle parabole ascendenti ma in realtà le parabole sono magari ascendenti alla fine ma sono dei continui avanti e indietro quindi io ti ringrazio tantissimo davvero della tua condivisione della tua gentilezza grazie andremo a proseguimento grazie